Quando ricevo una donazione all'interno del gioco puntualmente faccio un video del genere E' questo il caso perchè una persona ieri che ringrazio davvero tantissimo abbiamo avuto modo anche di sentirci attraverso i messaggi Mi ha donato il cosiddetto regalo definitivo che comprende esattamente 12.500 dobloni che potete vedere accreditati nel mio saldo dobloni Per l'appunto più 30 giorni premium Il costo di tale regalo definitivo è di 38.99 euro Ho apprezzato molto la nota che mi hai scritto nella donazione Segno che i miei contenuti in un modo o nell'altro sono utili Mi fa piacere che tante persone possono essere intrattenute dai miei video Quando tornano a casa da lavoro, quando tornano a scuola Quando magari vogliono passare il tempo e vedere un gameplay di World of Warships Sanno che possono fare affidamento sul mio canale Quindi io ringrazio questa persona Non faccio nomi, anche se hai messo il tuo nome alla fine non lo faccio per motivi di privacy Poi ovviamente se tu vorrai potrai scriverlo nei commenti Potrai scrivere quello che vorrai Adesso ragazzi con il saldo a 12.500 dobloni Si aprono due possibili strade su come utilizzare suddetta somma di dobloni Andiamo nell'armeria Intendo proporvi un altro sondaggio per vedere cosa ne pensate In merito a due navi che sono nella lista della spesa Ovvero la Massachusetts e la Gascogne Partiamo dall'americana che andrebbe a costare con lo sconto 9.787 Abbiamo cannoni da 406 Una buona protezione contro i siluri Efficace Un'efficacia per quanto riguarda la contraerea Abbiamo inoltre un'ottima distanza e accuratezza Per quanto riguarda le armi secondarie da 127 7.5 è la gittata base Abbiamo poi la squadra di riparazione Con un tempo di recupero ridotto a soli 40 secondi Per la versione premium L'altra nave è la francese Gascogne O come si pronuncia 9525 Abbiamo Combina in maniera efficace Una robusta corazzatura E una cittadella ben protetta Abbiamo anche il consumabile sovralimentazione Particolarità del ramo francese Abbiamo inoltre una velocità di 34.5 Cannoni da 380 Una prua e una poppa E una distanza incredibile a 23.8 km Abbiamo Siamo in grado di sostenere a quanto sa scritto Una buona Diciamo Un buon Molti colpi nemici Il fuoco nemico non dovrebbe essere un problema Difesa contro aerea Abbastanza da rivedere 40 secondi anche qui Per quanto riguarda la squadra di riparazione 2 Ci tengo a specificare una cosa Il sondaggio è più che altro Una consultazione Per vedere cosa ne pensate Delle due navi Quindi nella pagina di youtube Sezione community Andrò a mettere questa consultazione E avrete tempo Fino al 26 di febbraio Alle ore 15 Per poter dire La vostra E comunque sia Votare Ci tengo a specificare Una cosa Molto Molto Importante Qualora Dovesse vincere Una delle due navi Io Comunque avrò L'ultima parola Deciderò Quale Nave Andrò a acquistare Quindi potrò confermare Oppure potrò Cambiare totalmente La nave Da acquistare Un po' come Borghese Nel suo programma Con il voto finale Non so se avete presente Esatto La stessa identica cosa Vi ricordo che Ho ancora aperto il sondaggio Per votare Sulla camo permanente Su quale nave Andarla a mettere Entrambi I sondaggi Saranno chiusi Il 26 di febbraio Alle ore 15 Il primo sarà Quello della camo Non potrò Cambiare Il verdetto Mentre qui Il secondo E' più Una consultazione Spero di essere stato Abbastanza chiaro Io ringrazio Ancora una volta La persona Che mi ha donato Il regalo Definitivo Ringrazio Tutti coloro I quali Mi hanno donato Contenuti di gioco Nel corso Del tempo Se qualcuno Volesse Contribuire Alla mia esperienza Qui su World of Warships Basta andare Nel premium shop Del gioco Selezionare L'articolo Che Volete Donare E mettere Il mio Nickname DavyJ90 Esattamente Come c'è scritto Qui Se volete Contattarmi Potete farlo Attraverso Facebook Instagram O ancora All'interno Del gioco Ragazzi Video terminato Io come sempre Vi ringrazio Per i like I commenti E le visualizzazioni E noi ci vediamo Alla prossima Con un nuovo gameplay Ciao Ciao